Hai fatto un po' dei cucchiaio al piano di te? Tutti i consozi, avete fatto? Uuuuh! C'è il quartiere! C'è stato il cazzo, cagani! C'è stato il bacio a un Freddy! Nanzo Muslet! C'è stato il bacio! Eh! C'è stato il bacio! Lì lì sto giocando la valle! Uuuuh! Mamma mia! Cosa è una caccia via di mio cazzo? Nanma mia cazzo! 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 Uuuuh! Nanma mia cazzo! 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 guarda che cazzo non è inespiegabile è la forza è il culo guarda che c'è la fissa d'occhio guarda che è una ruota è una ruota è una ruota è pure con l'altro so passa a sta palla mamma mia va a scarciuta aaaah stai a tirare aaaah che è giocato qui è una lenta vabbè nooo vabbè che rimani dov'è? è un giudice 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 qualcuno è andato oh ci ha mirato vabbè 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 dì che mi va a tre quattro dì che mi va a tre quattro perché sono tre quattro no sono cinque ma eh no 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 e che cazzo si svolge vabbè ma è un giudice 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 e cazzo vabbè 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 nooo vabbè 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 Oh ma potete fare un po', non c'è la ripeto Vabbè 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 Perché? Vabbè 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 Beh ah 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 a azione Vabbè 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 «Ah Pinta di forza ti doORDATE» «Ahhh» Insisti, cercetto di andare «Sighi di torno» è anche raffocato, ma cosa passano? mamma mia! più potente! ho fatto! avevo palleggiato il mio pezzo! è già stigliata ora! la differenza è importante! i giocatori sono demoralizzati eh! Federico, ormai vedi un bingo! devi prendere il tuo nome! fai vedere il tuo nome! fai vedere il tuo nome! fai vedere il tuo nome! tutto a noi ce l'ha! eh no! io non ho capito! qua! qua! guarda qui! è una papera! qua! 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 ma che rara ce ne vedi che ci ha ottenuto? un cazzo di tanti! uuuuuhhhhhh! fai vedere il tuo nome! che vuole il tuo nome! non sono una buona volta! non sono una buona volta! Grazie a tutti.